Musica Bella ragazzi, bella a tutti è un onore ospitare di essere ospitati di essere fatto tutto perché ragazzi dovrei sapere che questa puntata la troverete sia nel mio canale che nel canale dei Grananas, quindi ragazzi vi consiglio di andare nel loro canale immediatamente di andarvi a iscrivere perché sono a merito tantissimo sono due ragazzi simpaticissimi che conosco anche di persona e se no gli strappo i piedi del culetto ragazzi siamo subito qui in una partita con le macchine io mi prendo la dominator nella ruiner che mi prendo la dominator? sa rovinamo proprio qua e siamo partiti subito ragazzi non potete capire il macero che mi sta succedendo a me oggi per registrare GTA è una cosa allucinante infatti i Grananas tra poco vi uccidono comunque ragazzi io per farmi ripagare metterò 2500 di scommetto 2500 potete vedere se avete il coraggio anche voi di farlo l'abbiamo fatto già io sono pronto siamo avanti esatto stanno avanti adesso io vi spacco il culo comunque io approfitto per dire a quelli del mio canale di passare sul canale di Joker e di iscriversi grandissimi se gli va mi raccomando ragazzi esatto sempre se vi fa se no vi strappiamo il piede del culo anche a voi non è un problema e sentite che rombo cioè c'è un rom impressionante io sapete che vi spondo con la macchina si oddio sono partito in un modo allucinante ho messo ma te come fai a partire sempre così non lo so è una partenza perfetta ti dico la verità non lo so ma quella già ha modificata si ora io ma noi abbiamo la macchina più lenta ma chi è questo oddio che ha fatto quello come ti ha superato è davvero è davvero è davvero ma guarda che sta affastomato levati oddio 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 devi girare ma che cazzo è successo gente è morta ovunque ragazzi ma che è successo attenzione mi hanno detto direzione sbagliata grazie eh sì perché non dovete andare dritti siamo tutti qua avevo superato in un modo impressionante no no ho fatto il testa coda porca troia puttana boom dai corribiamo dai no ragazzi oh guarda tutti no 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 dai ma guarda questo va bloccato sto fio di puttana ragazzi tutti i pebratti sono andati no dai che fio di troia attenzione siamo secondi siamo secondi non ci voglio credere mortacci tua non ci voglio credere ragazzi mamma mia primi in assoluto ma dai ma che culo che vi ha detto ma porca troia io c'ho quello che mi ha fatto sfracciare in un modo allucinante poi mi si è messo avanti e non mi faceva passare mortacci sua se ne siamo proprio andati che sono questi saluta 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 mi sto superando un altro ciao oddio non ho superando un altro sono secondo sono secondo e vivo la france e vivo la france li rimangono sai a bientot ora guarda sto arrivando stavo a saldere si ma lei ma lei ma lei ma lei ma lei ma lei no oddio ce l'ho attaccato al culo ma quanti giri sono ce l'ho attaccato al culo no non vale mi stanno superando io voglio tagliare la strada bastardi bastardo mi ha superato con la scia gira due di due sono due giri ottimo c'ho più possibilità noi vabbiamo tranquillo ma magari vi spaccano vedete uno scoppare le ruote porco due grazie ragazzi chi vuole che gli schioppano le ruote granasse mettessi mi piace immediatamente in questo momento voglio un mi piace oddio un mega salto un mega salto o quella che ti sta ripiando tranquillo no non so io però stiamo tutti vicini vi stiamo ah raga quello vi sta recuperando anche a voi non hai capito quello sta andando a una piotta ma come fa questo raga sta a correre tantissimo quello ce l'ho attaccato al culo non tacci tu si bravissimo ti ha buttato fuori in strada ci sto passando pure io sto passando pure io voglio passare pure io ecco lì merdi oddio stiamo facendo tipo nifo speed ragazzi la gara più epica è qui è arrivata ragazzi è arrivata tutto veloce non gliela fanno oddio ragazzi sto recuperando anche questo oddio si arrivo primo mamma oddio si arrivo primo raga vieni oddio si arrivo primo vieni vieni ciao no no ho fatto la cazzata del secolo ho fatto la cazzata del secolo ragazzi la cazzata del secolo è stata fatta sono un futuro stronzo perché vogliono mandare fuori di pista quello no ma porca troia ma porca troia ma come fa quello a piottare così tanto no ragazzi non hai capito stavo facendo una gara un rimontone allucinante e poi perché sono egoista e sono stronzo io voglio andare addosso invece sono fuori di pista allucinante no dai ma ci abbiamo fatto andare a noi fuori di pista una bottadella piccolina non ci voglio credere avevo fatto una gara spettacolare e vabbè siamo arrivati in retromarcia come secondi a traguardo no sono uno stronzo non ci voglio credere è pure una donna mortacci tua è una puttana ah no una donna e poi dicono che le donne non sanno guidare eh si hai capito questo a 300 stavano ma come cazzo lo girano non si sa qua dominator sta ma guarda dai calibre 45 arsi di la gonna facci tre sciopete capezzolo in diretta sciopete capezzolo immediatamente sciopete capezzolo ma dai no ragazzi comunque ragazzi mettere mi piace per questa gara cioè guarda tutti che hanno perso i sordi hanno perso i sordi hanno perso tutti quanti l'unico che l'ha scommesso a B eh davvero cioè noi che abbiamo scommesso ah fammi sboroni 2.500 quello 300 quello è 2.500 capito ottimo 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 veramente allora siamo rientrati abbiamo venuto 2.400 e 2 allora vediamo che gara ci possiamo fare adesso un deathmatch no una gara cattura o un cattura c'è la gara c'è la gara c'è la gara giochi di guerra che cos'è base militare io direi di fare cerchio nel grano tutto è messo incluso il gara cerchio nel grano si vai cerchio nel grano ci sto ci sto mi sa che non ci sta non abbiamo scelto cerchio nel grano esatto mi sei stato pensando il culo lo stesso il nostro voto vale 0 eccoci qua ragazzi siamo tornati siamo usciti oh già mi stai vestiti un altro voto fuori sotto siamo usciti siamo andati nella modalità praticamente di free giochiamo qui in questa grandissimo senti che clacson è il clacson della chico il clacson della chico si il clacson della chico il clacson della chico allora andiamo lì davanti e gli fai il clacson ignorante esatto ma io direi subito che ti fassi una bella rapina come hai vai clacsona clacsona ma che cazzo ho clacsonato come dici tu vai io entro con il mio k47 io non ho la pistola perché me l'ha tolto salve scusi salve vorrei si si se a po' progetto dai mutti i soldi sbietta ma cosa sta ah eccolo sta qua è sbagliato cassa oddio che cazzo hai fatto no l'ho ucciso ma perché abbiamo perso anche i soldi ma no perché ti sei avvicinato a me stavo sparando stavo sparando ma che cazzo bellissimo manca la rapina l'hiamo fatto ottimo siamo dei ladri veramente di merda aspetta che sto qua dietro a te non ti muovi mi hai mappiato il fiazion dai dove stai ecco mi sono che te sento mi scusi non l'ho fatto apposta lo giuro vabbè ok abbiamo capito che te manchi i ladri potremmo fa lascia verde va potremmo fa manco quello mamma mia stanno pure a rincorre ma che palle abbiamo toccato a sfuggire da ste cazzo dei pulizioti ma abbiamo andato to' da nam senti che rompeta si mettono paura solo al passaggio noi inseminiamo tutti scusate qua sparano porco due tiè fast and furious mamma mia no qui ci sta ecco la ho trovato ah che cazzo un attimo c'è quello lì per 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 mi hai capito no si si certo e ci bu oddio le panne e vabbè mi volevo buttare di sotto pensavo che non ci fosse una palma eccola ci riesco ci riesco perché hai messo in pausa ti sto segnando un coso per far rapina ah ok intanto scappo così vabbè evito vai ok a posto ci siamo a posto ci siamo fate sentita tutta lo santos sentitemi lo santos madonna guido che cazzo è sei un pazzo della mappa hai visto si arrivo si ma mi scusi collega questa volta facciamo fatta bene una rapina si come professionisti entriamo se poi uno aspetta la macchina e l'altro rapina pronti a partire ah dici proprio così chi entra rapina entra tu allora entro la rapina e tu aspettami fuori pronti a partire io te lascio del drifting oh due colpi di grazia non significa stare alla polizia va bene vai vado questo è uno per avvertimento vai com'è il segnale fatte sentire sta dietro dove sta la cazza dammi i soldi siamo professionisti guardate la scena epica la scena epica ragazzi pure una bottiglia di vodka se è possibile si anche un litro di latte per favore mi serve latte si mi serve per casa giusto c'è sulla centrale del latte qua non c'ha non c'ha è polino lento però collega ok i soldi presi 5.000 spara gli in testa porco vai vai sgomma vai ci siamo via no non mi dici ah ma stanno se ne stanno veloci eh no sul giro questa è stata una piena tattica bella fighissima questa è proprio la polizionizia occhiamo l'izia dai spariamo l'izia ma che cazzo c'è fregato della polizia l'ho preso l'ho preso pieno vai non so dove cazzo sto andando sull'auto strada perfetto sono agli pure idea si sforzi permesso permesso quanto mi fa tagliare sto clacson le giuro eh clacson oh levate qui si stanno a fare scusate no oddio ci stanno qui i posti di blocco ok la polizia ti apro io il barco tranquillo ok io l'ho sfracellato uno non ho sfracellato ma capirà sull'autostrada non scapperemo mai qui sotto lo sai si guardalo ci penso io mori stronzo mori ho qua la pistolina ma tira fuori il bazooka c'ho solo quella per me faremo una fine di merda probabilmente per me eh cala pure l'elicottero contromano questo è tipo la film è vede al posto di blocco oddio comunque la polizia mi sa che sono più carabinieri che polizia oddio non lo so perché sono scubi si bloccano una parte di cosa oddio oddio madonna che tramba è diventata una smart si esatto è diventata una smart però il crackson funziona lo stesso il crackson non ci sta sempre si si ma dove stiamo andando non lo so chiusi lo so ma è l'aeroporto questo che cazzo è oddio un aeroporto così è messo un po' male non credo che sia un aeroporto è qualcosa è un cantiere navale oddio oddio pure la polizia si nuotiamo non ci manso crede che cuglioni sono come si sale ah ok perfetto e poi come faccio come faccio ci dà l'acqua oh ma perché c'è un poliziotto che mi spara dentro l'acqua ma come cazzo fa dove sei mi spara dentro l'acqua mi spara Federica Pellegrini non lo so c'ho il poliziotto che mi spara una dentro l'acqua come stanno vogliendo la vita ci stanno le scalette vai si ma cacchio siamo fottuti oddio è un coso che vola siamo fottuti sappio l'amico mio sarà un piacere fare una rapina con lei si vai no levati sei un passato oddio ributa dentro oddio io mi ributo ciao ciao mi è arrivato via ma che cazzo è mare ma che cazzo è fatto rimaniamo qua sotto si pure ai navi marendo preferisce morire di ossigeno come spara ecco sono morto mi hanno massacrato io sto ancora da sott'acqua mi è stato un piacere fare una rapina con lei sono morto ma porca troia dai vabbè ragazzi che dire io spero che questo video vi sia piaciuto ringrazio i grananas di questa fantastica avventura nella meca rapina che abbiamo fatto io intanto oh come faccio una strage brutti e merdosi eh bastardi io sono capitato in mezzo ai carabinieri li ho uccisi tutti morite morite vaffanculo ok mi sono sfogato e levati su niente ragazzi con questa piccola strage che ho fatto vi ringrazio per essere venuti con me ringraziamo i grananas clicchiamo lì sotto bella grananas è stato un piacere bella gioia vi ricordo di passare gli entrambi i canali nelle nostre pagine facebook troverete tutti i link in descrizione e niente ci vediamo al prossimo appuntamento mi raccomando spolliciate bella vaffanculo e bella al prossimo appuntamento bella bella ciao 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 ciao